Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare un nuovo gioco di ruolo Come vi ricordate vi ho mostrato Corioli la volta scorsa sempre della Weird Edizioni E anche questa volta è un gioco che mi è stato mandato a casa appunto dalla Weird che io ringrazio Ancora una volta di cuore è veramente ragazzi un onore a parte ve lo dico Forse anche un po' troppo, un po' troppo spesso sono così, sono ripetitivo, sono un po' logorroico È veramente però, ora a parte di scherzi un onore collaborare con voi e spero che questa cosa possa durare Lo ammetto, sono fermo da 12 anni con i giochi di ruolo Mi sto ora un po' riattivando, riformando un gruppo per giocare e tutto quanto Infatti vi dico, prima di iniziare vi dico che a breve sul canale vedrete anche dei giochi di ruolo Proprio partite, veri e propri gameplay, partite, sessioni e tutto quanto E inizieremo con la prima sessione, ovviamente ragazzi nessuno me ne voglia male Però la mia ambientazione preferita di sempre è Alien a livello di horror spaziale E quindi faremo un'avventura nel gioco di ruolo di Alien a cura della Free Aligan Che uscirà entro fine anno e abbiamo già lo starter kit, insomma ha preparato un'avventura con Roll20 E la vedrete spezzettata in 3, 4, 5 episodi sul canale Poi quello si vedrà Comunque voglio presentare oggi Shadow of the Demon Lord Che è un nuovo gioco della Weird Edizioni Gioco che è uscito già da qualche tempo, se non erro dovrebbe essere uscito nel 2014-2015 E gioco di una nuova campagna Kickstarter, se è chiaro il gioco è già uscito Lo trovate sul sito della Weird con tutte le cose acquistabili Tra l'altro si parla addirittura di 70-100 espansioni Sia in formato cartaceo reale che in formato ebook o comunque pdf scaricabili dal sito Però trovate avventure, compendi, nuovi personaggi, nuove regole e quant'altro In un gioco che è veramente bellissimo E la Weird sta spingendo il più forte possibile come gioco Perché appunto è un gioco secondo me di punta come Conan, Corioli e altri che verranno Ed è iniziato il secondo Kickstarter Ragazzi il primo link in descrizione lo trovate subito Nel secondo Kickstarter trovate sempre il gioco, non è una nuova edizione o cose del genere Però trovate Shadow of the Demon Lord con tutti quanti gli stretch goal Che potranno essere sbloccati, raggiunti 1000, raggiunti 5000, 10.000 e così vari E quelli stretch goal una volta sbloccati Non solo facendo dei pledge particolari, ce l'avrete nel pacchetto complessivo Gioco base lo vedete scatolato, ora poi vi faccio l'unboxing Che ha anche addon a parte Quindi potete comprarli tutti insieme in un pledge unico Che io consiglio cardamente O se no magari se tutti non vi interessano potete selezionare quelli che vi interessano un po' di più volta per volta E selezionarli come addon durante il Kickstarter Quindi primo link in descrizione che trovate tutto Questo è un gioco di Robert Schwalb portato in Italia dalla Weird Edizioni Chi è Robert Schwalb? Robert Schwalb è un veterano dei giochi di ruolo Ha lavorato per la Green Ronin Famosi per The Expanse e giochi del genere Ed ha lavorato anche per la Wizard of the Coast Quindi si va su Dungeons & Dragons, soprattutto l'ultima edizione, la quinta Facendo moduli, avventure e cose del genere Ha lavorato anche sulle... io lo chiamo martelli da guerra Perché era la vecchissima edizione che avevo io Tra l'altro da qualche parte ancora Che è Warhammer Fantasy Warhammer Roarplay Fantasy Ed ha lavorato anche e soprattutto sulle cronache del ghiaccio e del fuoco L'ambientazione, il gioco di ruolo del... tra virgolette Seguendo la serie televisiva del Trono di Spade Ed è una persona molto famosa in questo campo qui Perché ve l'ho detto ha lavorato a piene mani Dalla Wizard of the Coast alla Green Ronin Moduli, avventure, ambientazione e quant'altro E lui, come vi dice il manuale del gioco È un fanatico, e lo capisco perché lo sono anch'io Dell'ambientazione di Warhammer Fantasy Il 40.000 a parte mi piace Però è il fantasy particolarmente il vecchio mondo Non l'età di Sigmar E lui è proprio un fissato E nella prima pagina del regolamento che vi faccio vedere Lui appunto, Robert Schwalb, ce lo va a dire Ce lo va a raccontare Che lui l'ispirazione principale L'ha avuta appunto lavorando A un'ambientazione un pochino Koopa Se vogliamo come quella di Warhammer Fantasy E si è messo in proprio Da qualche anno E ha creato il suo primo vero e proprio gioco di ruolo Perché ne ha creati tanti Però questo qui è suo Come ambientazione, setting e tutto quanto Che si chiama Shadow of the Demon Lord Ed è un gioco, secondo me Che prende a pieni mani Da un'ambientazione Koopa Infatti è un horror fantasy Ed è questa la cosa bella che mi piace da morire Cioè, non sei tanto il guerriero Che va a combattere il mostro Il demone O liberare la principessa O liberare un villaggio Dall'incursione degli orchi Questo è più cupo Sembra quasi Ci si sente un po' l'influenza di Ravenloft E appunto si vede che ha lavorato Per ambientazione alla D&D E si sente anche un pochino a volte Anche l'ambientazione un po' cupa Sia di Warhammer che di Lovecraft Quindi veramente Secondo me è uno spettacolo E ora ve lo faccio vedere Unboxing Confezione del gioco Tra l'altro bellissima Questa edizione qui Che vi ricordo Nel nuovo Kickstarter È sempre la stessa Non cambia niente Non è una vecchia edizione Solo che ci sono molte più cose Che potrete avere con i pledge È un secondo Kickstarter Mettiamola così Ed è bellissima Questa confezione della Weird Perché a parte che sembra Una collector edition Bella grande Cioè Di solito quando Io sono abituato A vecchio stile Quando vai a comprare Un manuale di un gioco di ruolo Compri il manuale del giocatore E poi magari a parte Compri quello dei mostri Del Game Master Qui invece è tutto Compreso nella scatola Tra l'altro anche il disegno È molto bello Vedete la colorazione Il Signore dei Demoni Che è il fulcro Di tutta questa ambientazione qui Che ora vi vado a descrivere E sotto personaggi Che sono un pochino Più o meno Gli stereotipi del fantasy Si va dal guerriero Al chierico Al nano e così via Apriamo Interno ovviamente Volantino Dei vari progetti Della Weird Su Kickstarter Vi ricordo che è finito Da poco quello di Conan E tra l'altro Non vedo l'ora di recensirlo Perché sono Stramega fan Dei romanzi di Howard E del ciclo del Cimbero Quindi non vedo l'ora Dateci un'occhiata Mappa Delle distese Settentrionali Quindi già trovate Una bella mappa Che io Sto pensando già Come a moglie Di mettere in un quadretto Perché è veramente Una figata E poi bella grande Bella grande Colorata Che è una parte Dell'ambientazione del gioco È quella dove il manuale Vi dice Non state ad impazzire Con tutte le informazioni Che vediamo Lì di lontani E quant'altro Usate questa per giocare Che tanto ragazzi C'è È immensa Sembra veramente Sembra veramente La Contea Più Brea Più tutte le zone Della terra di mezzo Famose Del Puredro impennato Quindi voglio dire Insomma È bella È veramente bella grande La mappa Basta E avanza Cioè è il doppio Della costa della spada De Forgotten Quindi Diciamo che questa È la mappa Dell'ambientazione principale Manuale del giocatore Tra l'altro Copertina Leggera Flessibile Bella colorata Tra l'altro Tirata a lucido Mi calva veramente Da morire Ed è anche bello Grandicello Come regolamenti Tutto Per quanto La maggior parte Del regolamento Del giocatore Sono incantesimi Archetipi Per le classi Descrizioni delle razze Però le regole Ragazzi Ora ve le descrivo Sono tre Veramente Manuale del dungeon master Dei mostri Dell'ambientazione E soprattutto Un po' di lore Insomma Via di storia Divinità E quant'altro Questo più che altro Serve Non ci sono tante regole aggiuntive Serve per gestire mostri NPC E darvi ovviamente Un raguaglio Sull'ambientazione E lo schifaccendo Pieve Speranzia Che è La prima avventura del gioco Un manualetto Di Bene o male 9-10 pagine Con un'avventura di base Perché questo gioco È particolare In tutti i cdr Partite di livello 1 In questo gioco Che è una cosa che mi piace da morire Partirete invece di livello 0 Il vostro personaggio All'inizio sarà una persona Qualunque Con un mestiero Magari Potrebbe essere Un panaio Potrebbe essere Un pescatore Potrebbe essere Un cacciatore Un ranger O cose del genere Però non sarà ancora Un avventuriero Questa avventura qui Vi introduce al gioco E a fine avventura Vi trasforma appunto Negli avventurieri Che vorrete essere E qualche scheda Semplicissima Nemmeno ragazzi Doppia pagina Una pagina unica Questa è la scheda veramente Di Shadow of the Demon Lord E stampatele Sì potete anche utilizzarle Ma fate prima ragazzi A stampare Anche perché ce ne è 4 o 5 Nel caso ve ne servissero di più Sul sito della Weird Edizioni Che trovate sempre Ovviamente in descrizione Ne trovate altre da stampare E sono belline E veloci Ora vi spiego un pochino Come funziona il gioco Nel corso del video Vi farò vedere anche Qualche immagine La scheda e tutto quanto Però la cosa bella del gioco Il regolamento All'inizio Cioè c'è una parte Secondo me il regolamento È semplicissimo Per il 90% C'è una parte Che forse non è difficile Però potrebbe risultare Leggermente macchinosa Perché il regolamento Di Shadow of the Demon Lord Ci fa all'inizio Creare un personaggio Di livello 0 Inizialmente dovete scegliere Un personaggio Fra le varie razze Che ci sono Gli Elfi non ci sono Perché sono una parte Emigarba Sta cosa Misteriosa e fatata Dell'ambientazione Esistono Ma non ve li fanno giocare Nelle espansioni sì Che poi trovate anche Nel Kickstarter Ma nel gioco di base Di no E c'è il Nano Orchi Goblin Ovviamente umani E c'è una razza Due razze che mi piacciono Andar a morire Che io sicuramente Giocherò quelli Durante una partita Che uno È l'Automa Ed è una specie Di robot costrutto Come vediamo Nelle antiche leggende Noi golem E cose del genere Creati ovviamente Con magia Terra e cose del genere E sono molto potenti Di solito sono creati Come combattenti Ma non per forza Anche perché Anche lì potete scegliere La classe dell'Automa E quant'altro Possono parlare Ovviamente interagire Se no del GDR Sarebbe zero Come gli esseri umani Però nel loro corpo Hanno una chiavetta Che può essere messa In vari punti Non è sempre per forza Detra la schiena Ovviamente coperta Da un sistema Di difesa Serratura Che una volta bloccata Questa chiavetta L'Automa Si spengerà Quindi ci sono leggende Di automi Che sono rimasti Spenti per centinaia Di anni E poi si sono riattivati E lì potete giocare Ovviamente parlano E tutto Se no il GDR Andrebbe a farsi benedire E in mutaforma Che quella per me È la classe più bella Il mutaforma Ovviamente Ha la forma sua Da creatura strana Un pochino Magari anche Non tanto formata Priva di lineamenti Cioè Quando è nella sua forma Classica Si nota subito Che è un mutaforma Ed è una creatura Che le persone Insomma ripugnano Perché può assumere Le sembianze Di chiunque Nel bene o nel male Ovviamente Facendo un tiro Tirandolo fuori Perfettamente La copia O non proprio Come un simbionte Magari che cerca Un po' Di avvicinarsi A replicare Al meglio Però La cosa bella È che possono assumere Le sembianze Di chiunque Vedano nel mondo E Anche comportarsi Come la persona Ovviamente Assumendo le sembianze Anche la voce Il tono della voce Sarà tutto quanto Lo stesso Copiando la persona Però è una figata Perché piano piano Queste mutaforma Che assumono la forma Lasciandone una E prendendone un'altra Di svariati personaggi Che incontrano il mondo Piano piano impazziscano Perché si dimenticano Di chi erano Loro stessi E quindi Iniziano a vivere Più le vite In queste altre persone E va a finire Che possono perdere Un po' la bussola E impazzire Quindi anche il regolamento Te lo dice Non cambiare troppo spesso Copiare corpi Di essere viventi Che trovi Perché rischi appunto Di perdere La sanità mentale Sanità mentale Che è un ruolo Importante in questo gioco Perché come tutte Le ambientazioni horror Se no non sarebbe Un gioco horror C'è la follia La pazzia E il contagio Perché in questa ambientazione Ve la faccio veloce ragazzi È un po' Ve l'ho detto Poi ormai nel fantasy Mi permettete di dire una cosa Nel fantasy Ormai non si crea più niente Perché già tutto è stato creato Da Tolkien Da Shannara Terry Brooks E tutto il resto Quindi è difficile Ora Martin Un po' si è impegnato E anche in questa ambientazione Qui si ritrova Tanto di Warhammer Però anche lo stesso credo La religione C'è il vecchio credo Antico La divinità del bosco Il cacciatore della serva Che poi è Ser Nunnos Nelle antiche Miti celtici Che tra l'altro Mi garba da morire Era uno dei tatuaggi Che mi volevo fare Il dio di Ser Nunnos Oppure c'è la divinità Dell'estate Che è la divinità Delle creature fatate Dei fauni E cose del genere Appunto anche degli elfi Perché gli elfi Gli elfi anche qui Sono quelli di Lord of the Rings Alti belli Che tirano con l'arco Però qui sono più viste Come creature fatate Da trovare magari In qualche avventura Fuori dalla giocata principale Di un gruppo di avventurieri Ecco almeno Il gioco base Non te li fa fare E l'ambientazione dice Che è un mondo Come tanti altri Magari con il boschetto Incantato Con un culto di Tug Che stanno cercando Di conquistare il mondo Ma È un mondo Che volge alla fine È un mondo apocalittico Che sta per finire Infatti il gioco Apre dicendo Voi vivrete E poi vi spiega appunto Anche a livello di regole Come è organizzato Voi vivrete Gli ultimi giorni Di questo mondo In Shadow of the Demon Lord Perché Sempre più malvagità Nel mondo Sempre più azioni malvagie Sempre più corruzione Dei leader E cose del genere Ma soprattutto Sempre più culti Che provano ad avere Il potere E sempre più potenti E incontrastati Stanno riuscendo Piano piano ad aprire Dei portali Dei gate nel mondo Per fare entrare Demoni Demoni minori E principi demoni E tra l'altro Insieme ai principi demoni Che fate conto Sono creature bestiali Potentissime Come un barro O cose del genere Si sta aprendo Un portale Abbastanza grande Per fare entrare Il signore dei demoni Che è quello che fa la fine Vedete qua giù davanti Il re dei demoni Il signore dei demoni È colui Che distruggerà il mondo È il distruttore E si narra Che nell'antica storia Abbiamo già distrutto Intere galassie Pianete E quant'altro Se non annullato Veramente la vita In ogni dove si muovesse E lo scopo del gioco È quello vostro Di vivere gli ultimi giorni Di questa apocalisse Quindi dovete ambientarlo In un mondo Fantasy Con piccole influenze Steampunk Piccole Tipo ci sono anche treni E le armi da fuoco Ma E dirigibili Ma poco altro È un mondo fantasy E dovete cercare Di salvare questo mondo Infatti per Questo è un gioco Che nel bene o nel male Per me è un bene Perché tanto più di Non riesco a fare campagne Con i miei gruppi Questo gioco Non si passa di livello Uccidendo i mostri Si passa di livello Quando il master lo dice Non passa di livello Un personaggio singolo Così da D&D Non avere il guerriero Livello 8 E il mago appena arrivato Livello 3 Che è lo scemo del gruppo Qui si passa di livello Come gruppo Quindi quando passa di livello A gruppo Passano anche tutti quanti gli altri E Ci sono 10 livelli Soltanto 10 livelli di esperienza Quindi 10 avventure Perché il gioco vi dice Ogni avventura Fate passare il gruppo Di un livello Ogni avventura Non ogni seduta di gioco Magari un'avventura Dura 3 sedute A fine di ogni avventura Quando avete Portato a compimento L'obiettivo finale Passate di livello Come gruppo E ci sono 10 livelli Arrivate al decimo livello Dovrete far capire Se questi avventurieri Hanno salvato il mondo O il mondo è stato distrutto Quindi È un po' una guerra Skynet Per prendere Terminator No? Come ambientazione Voi giocate gli ultimi giorni Mesi Anni Insomma Di questa ambientazione Che piano piano Sta venendo distrutta Quindi dovete sempre far capire Al vostro gruppo Di eroi avventurieri Che questo è un mondo Che va verso il collasso Quindi fate aprire gate Arrivano demoni Che sfasciano Distruggono Razioni E cose del genere E l'ambientazione È a sua volta distrutta Perché l'impero degli umani Che era il più potente Ha annesso Tutte le altre città-stato Che c'erano Ha creato un impero Forte e potente Ed hanno creato Perché sono stati gli umani In questa ambientazione A creare gli orchi Con la magia e tutto Per assoggettarli come schiavi Un po' in confrontazione Anche l'abbiamo visto Se ve lo ricordate Orchi Che ovviamente A un certo punto Avranno un loro legittimo Pretendente al trono Avranno un loro re Dopo centinaia di anni Gli orchi si ribellano All'impero degli umani E l'imperatore È stato preso Strangolato E ucciso Quindi ora Sul trono dell'impero Un tempo governato dagli umani C'è un re orco Quindi vi immaginate Che casino è questa ambientazione Cioè Tutte le altre città Città-stato Dell'impero Si stanno fortificando Perché dicono L'imperatore è morto E ora c'è un orco pazzo Che vuole distruggere tutto E magari detta la sua legge Incazzato nero Con gli esseri umani Che l'hanno schiavizzato E questa è la ambientazione E più nel mezzo Ci mettiamo anche i demoni Il regolamento ragazzi Ho preso qui due dadi Perché il regolamento È semplicissimo Il regolamento Ragazzi È molto semplice Dado da 20 Per fare il check Sull'abilità E sui tiri contrapposti E il dado da 6 Per vantaggi Svantaggi E danno delle armi Perché tutte quante le armi Fanno che ne so 2 di 6 Più 2 3 di 6 1 di 6 4 di 6 Ovviamente Svalb L'autore viene da Dungeon & Dragons Quindi come vedete Il D20 e quell'altro Però Dungeon & Dragons Cosa ci insegna Che noi dobbiamo tirare Sul D20 Meno un check di caratteristica Vi faccio l'esempio Ho Agilità 16 Check di caratteristica Con più 0 Più o meno 0 Senza modificatori Io devo tirare 16 o meno Sul dado da 20 Invece questa ambientazione È differente La caratteristica di base È il 10 Quindi ogni punto In più del 10 Ti dà un bonus 11 ti dà un più 1 12 ti dà un più 2 18 ti dà un più 8 Perché 8 in più rispetto al 10 Ovviamente i numeri sotto Ti danno malus Un 9 è un meno 1 Un 8 è un meno 2 E così via Se io ad esempio Devo fare un check Per sfondare una porta E ho forza 14 Tiro il dado da 20 Più 4 Ovviamente perché 14 È 4 più del 10 Quindi più 4 E non c'è mai Un modificatore Alle azioni Quando voi fate un'azione Sfondare una porta Scalare una parete Provare a convincere Una persona con la volontà Provare un tiro di charma Anche per vedere se Magari riesco a suonare bene A cantare una canzone In caso io sia un bardo Dovete sempre fare una prova La difficoltà è sempre 10 Non la cambiate Qualsiasi tiro Faranno i giocatori 10 Voi prendete il dado da 20 Lo tirate Ci aggiungete 4 In questo caso ho fatto 15 Più 4 è 19 La difficoltà è 10 L'ho superata Nel caso il dungeon master Può darvi dei vantaggi Fino a 3 O degli svantaggi Ovviamente fino a 3 I vantaggi sono Il dado da 6 Da tirare insieme Dopo Scusate Il dado da 20 Nel caso di uno svantaggio Tiro un dado Due svantaggi Tiro due dadi da 6 Tre svantaggi Ne tiro 3 Tirando i dadi Se io vi do tre svantaggi Dovete tirare 3 di 6 E tenere il maggiore Non tutte e tre Sennò sarebbe impossibile Per i vantaggi uguali Tiriamo 3 di 6 E teniamo il migliore Vi faccio un esempio La prova di prima È sempre come vi ho detto Sempre non cambia mai Difficoltà 10 Io tiro un dado E faccio Che ne so Potrei fare 2 Ok Facendo un 2 Più 4 Della mia agilità Come vi ho detto Della mia forza Per sfondare la porta 2 più 4 Avrei fatto 6 La difficoltà è 10 Perché è sempre quella Quindi non ce l'ho fatta Però il master potrebbe dirmi Per questa prova Prima ovviamente di fare Tirare il dado Ti do 2 dadi Ti do 2 vantaggi Io tiro 2 di 6 Un esce 4 E un esce 6 Sommando il 6 Al valore che ho fatto prima Vado a fare 12 Quindi supero appunto La difficoltà della prova Preimpostata Che è quella lì E ho superato la prova Quando si va ad attaccare un mostro Invece A fare una prova È sempre contrapposta Se io provo a convincere una persona Sarà la mia volontà Contro la sua Quindi io tiro il dado da 20 Con il bonus che ho Volontà 12 Dado da 20 Più 2 E devo superare La volontà del nemico Magari il nemico Ha volontà 12 La difficoltà è 12 Perché è sempre la sua volontà Nel caso di Un attacco in corpo a corpo Io dovrò usare La forza per colpirlo E lui la sua difesa Che la difesa Invece è sempre pari All'agilità Quindi A meno che non abbia armature addosso Perché le armature Modificano questo tiro E lo alzano Che ne so L'armatura a piastre Magari ti dà armatura 18 Quindi devo fare sempre 18 Più per colpirti Armature e armi Che si logurano Come in Dungeon & Dragons In queste ambientazioni Quindi il regolamento Ragazzi è tutto questo Finiscono le regole Ovviamente i punti esperienza Che si prendono come gruppo La pazzia La follia Perché si possono guadagnare Punti follia Pazzia Il vostro personaggio Può diventare pazzo Quindi o lo perdete O inizia a avere delle manie Delle fobie E cose del genere E poi soprattutto Il passaggio di livello Livello 0 Avete due professioni A caso Cacciatore E pescatore Questo è quello che siete voi all'inizio No? Avete queste due professioni qui E passando di livello A livello 1 Dovrete scegliere una classe Da neofita Arrivate al livello 3 Dovrete scegliere una classe Da esperto Arrivate al livello 7 Una classe da maestro Però il gioco ci dice Arrivate al livello 7 Se te non vuoi la maestria Che ne so Divento un guerriero Potentissimo Invece di prendere la settima classe Che sarebbe la prima Da maestro Posso prendere una seconda classe Da esperto Quindi sono magari Invece di diventare Un guerriero potentissimo O meglio che c'è sul pianeta Posso diventare Un guerriero bravissimo Ma allo stesso tempo Un ladro Uno scassinatore folle E quindi O magari un guerriero mago Un guerriero chierico Mi posso specializzare in più cose Non sono bravo Come a fare una sola Però magari sono Bravo in tutto Ecco mettiamola così Un po' come il chierico ranger Che faceva tutto in D&D E ragazzi questo è il regolamento Cioè è molto facile Tiro del D20 Su una prova di 10 Con da 1 a 3 modificatori Di vantaggio O svantaggio E una prova contrapposta Ti voglio convincere Il mio carisma contro il tuo La mia convinzione contro La mia volontà contro la tua E così via In cantesimi magici Per maghi e cose del genere Si passa di livello Andando un po' scalati Quindi primo livello Quando passi al livello 1 Prima classe novizio Livello 2 Prendi bonus della classe novizio Livello 3 Primo livello della classe esperto Livello 4 Prendi il livello Un altro livello Della classe novizio Quindi tutto Un po' va a scaglioni Dovete leggere in manuale Perché a spiegarlo Ci vorrebbe un video a parte Comunque il gioco ragazzi È molto semplice L'ho letto una volta Vi rimane in testa Che è una bellezza E secondo me Una figata Perché come ambientazione Ci trovate tutto Vi garba la terra di mezzo Ci trovate gli orchi goblin E la magia Vi faccio l'esempio Vi garbano i forgotten realms Ci trovate elfi Boschi incantati Ci trovate Che ne so Guerrieri del nord E cose del genere No Kobolde Quafomori E quant'altro Amanti di Warhammer O comunque ambientazione più cup Ci trovate uno sbotto di demoni Perché questa è un'ambientazione Che sta morendo È un mondo Che a voi Dei principi demone Che stanno entrando nel mondo Per distruggerlo Ed è un'ambientazione ragazzi Veramente bella E nel manuale del dungeon master Ti spiega tutto minuziosamente In più Sul sito della weird Che io ringrazio di cuore Ancora una volta Vi ricordo Andateci Ci sono un centinaio Di espansioni Fra ebook Che comprate e scaricate Quindi anche dal telefonino Dal tablet Ve le leggete O roba proprio Fisica Nel senso Scatolata Io ragazzi che dirvi Prendetelo Perché è una figata assurda Ve lo dico proprio Col cuore in mano Sinceramente Mi garba da morire Infatti Mi sto anche adoperando Per farci delle avventure Da portare sul canale Non vi voglio dire niente Perché non voglio dare tempi Però porterò delle giocate Di ruolo sul canale E io ancora una volta Ringrazio di cuore La weird edizioni Per avermene fornito Una copia per la recensione E ragazzi Date un'occhiata Primo link in descrizione Perché ovviamente Ne vale la pena da morire Li devo dare un voto Ovviamente Come voto Se devo essere sincero Le do un 9 su 10 Perché ho apprezzato l'impegno Ho apprezzato l'ambientazione Ho apprezzato tutto Gli avrei dato un 10 su 10 Se fosse stato Poteva andare di più Robert Schwalb Poteva andare leggermente E farla ancora più personalizzata Perché È un calderone di tante cose Però Io riconosco a Martin Per me non è un problema Chi prende e butta nel mezzo Però Amalgamalo bene Cioè Tiraci fuori qualcosa Che sì Quello è quello Quello è quell'altro Però Che alla fin fine È un prodotto Che coesiste bene E questo coesiste Veramente da paura Mi garba da paura Da morire E se devo giocare un fantasy Giocherò questo Quindi 9 su 10 Meritato E fatemi sapere Cosa ne pensate Alla prossima